Un artista è immerso nella realtà se produce un oggetto o se produce una mostra che vanno a vedere tantissime persone. Non è molto immerso nella realtà se produce un oggetto che non lo vede nessuno e passa da una galleria dove c'è poco passaggio al diposito di un ricco collezionista. Ho vissuto questo progetto come avrei vissuto la produzione del mio ipotetico lungometraggio che non farò mai. Quando uno fa l'opera d'arte sua deve preoccuparsi di tutta una serie di valenze formali. Quando uno invece gioca con del materiale preesistente si diverte molto di più perché la qualità del materiale preesistente è già data per scontata e quindi il lavoro è quello di teorizzare di parlare attraverso le immagini degli altri e questo è fantastico. Io infatti a fare questa mostra mi sono divertito come un pazzo. In quel decennio che noi abbiamo deciso di esaminare in questa mostra abbiamo visto che dei creativi anche radicali anche politicamente posizionati in maniera non allineata rispetto ai politici che governavano la televisione di quel momento hanno avuto la libertà di fare dei progetti abbastanza radicali. Chi lo sa che se qualcuno si facesse avanti oggi non potrebbe accadere la stessa cosa. Nella televisione di oggi forse le persone più rilevanti accettano solo di apparire in contenitori protetti. Sarebbe molto bello che delle figure di primo piano di qualunque categoria accettassero di mettersi in gioco dentro la televisione. Questo sarebbe divertente. I social media sono uno specchio dei millennials. La televisione è ancora uno specchio della pancia della nazione. Certo che noi se vogliamo capire il futuro forse dobbiamo guardare Chiara Ferragni, però se vogliamo capire che partito vincerà alle prossime elezioni è più facile che lo capiamo guardando la prova del cuoco. Dei social media sempre più strutturati per raccontare volontariamente o involontariamente la parte bella, la parte gloriosa, la parte di vanto delle proprie vite. Sono dei social media sfoggianti. I repertori di falsa naturalezza che non aiutano psicologicamente secondo me. Dobbiamo riconnetterci alla discussione dei sentimenti perché in fondo anche da quelli partono molte scelte politiche e umane. Mi auguro di trovare magari mostre come delle televisioni pubbliche a un certo punto decidono di rompere gli schemi e di presentarci qualcosa di sorprendente e inaspettato. In questo senso certo la fondazione Prada è una fondazione privata però fa una bella mostra sulla Rai che mi sembra parecchio inaspettata e questo mi sembra un modo di operare parecchio eccitante ecco.